Ecco c'è la partenza, ormai manca poco. Bordo David e Paulino a brua per risale le vele, poi saliremo sul gommone e sarò solo. Ecco una grande folla! Bellissimo, sono 30 nodi, fa molto freddo, la temperatura dell'aria è 6 gradi e mezzo, le vele sono bellissime, molto performanti, fame, sonno, freddo, tutta voglia, naso davanti male, lo schifo, però stiamo andando molto veloci ora. Altro che barrette energetiche, qui andiamo avanti a Bottariga, buonissima, burrasca allucinante, non esco da qua dentro, da ieri sera, ci sono 30 nodi, mare bestiale, però adesso l'albero ancora non è caduto, vediamoli manca là, mi trovo tanto il mal di mare, questo è lo spettacolo, ondate, botte, ondate, trevatuto, sono 8 giorni, il tempo è sempre così, non se ne può più, pioggerellina, nebbia, tutto grigio, mare molto mosso, sono loro di mezzo piede a terra, e sicuramente questa legata non la fanno mai più, la basta e la basta, ora la metto a 2-6, è veramente polare, c'è un freddo pazzesco. Con tutte le dita scassate non riesco neanche più ad avvitare per il freddo nei banchi di Terranova, questo è il limite dei fondali, quindi da fondali di 5.000 metri stiamo salendo a bassi fondi di 100 metri, e in arrivo un fronte con molto vento domani mattina, 35-40 nodi, davvero, non se ne può più. Qui si avvicina il mare in Labrador, prossimo ai ghiacci, e questa è la nostra posizione, prua a Newport. Marco, il miele neuragico si è induito, è una verda, non esce niente, e sono 5 gradi, come faccio? Mi piacerebbe il microlotte a bordo. Bisogna essere matti per andare in parca a bella con questo tempo. Le mie mani, come si sono lì da notte, gonfie, le sfasciate. Un'altra grande vittoria, schiancante, la futura di tutte. Il nord atlatico controvento è qualcosa di impossibile, invernale. Sicuramente questa legata non lo ripeterò mai. Nella osta, nell'accioca. Basta e avanza. E grazie ragazzi alla mia veleria, che hanno lavorato a sodo per realizzare queste fantastiche vele, molto leggere, molto resistenti, che non hanno subito praticamente quasi alcun graffio. Sono perfette. Stiamo tagliando adesso, e sono le 18 e 12. Stiamo tagliando a te. Stiamo tagliando a te. Stiamo tagliando a te. E insieme a te. Grazie a tutti.